Senza ombra di dubbio i giochi che preferisco sul mio smartphone sono quelli arcade, passatempo, casual come volete chiamarli ovvero tutti quei giochi non impegnativi molto semplici in cui dobbiamo solamente effettuare una partita e realizzare il maggior punteggio possibile proprio per questo motivo ne ho davvero tantissimi installati sul mio smartphone e quindi oggi invece di portarvi un video più generico ho deciso di andare nello specifico e consigliarvi i 10 migliori giochi arcade secondo me tutti gratuiti da installare in questo preciso momento su tutti i vostri smartphone sia iOS che Android non perdiamo altro tempo e iniziamo subito ciao a tutti ragazzi qua come sempre Fede Tutorial e in questo canale pubblico video in ambito tech come questo e anche tutorial più specifici per computer e dispositivi mobile iOS e Android quindi mi raccomando se vi interessa l'argomento e non l'avete ancora fatto ricordatevi di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto e soprattutto abilitate la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun aggiornamento di tutti i prossimi video vi ricordo inoltre che in descrizione trovate il link diretto per scaricare tutti questi 10 giochi il link è uno solo ma funziona sia per iOS che per Android quindi tranquilli il primo gioco di oggi si chiama Force Escape e vi avverto è il più difficile di tutta la lista anzi quasi sicuramente il 90% di voi smetterà di giocarci dopo meno di 10 partite proprio perché all'inizio moriremo sempre ed è molto molto frustrante comunque secondo me una volta che ci avremo preso mano il gioco merita veramente tantissimo soprattutto per la grafica davvero spettacolare e minimal che crea un'atmosfera veramente molto piacevole lo scopo del gioco in sé come tra l'altro tutti gli altri giochi di questa lista è veramente semplicissimo dovremo semplicemente proteggere una sfera bianca durante tutto il suo percorso incontreremo molti oggetti ed ostacoli da superare e avremo a disposizione solamente un piccolo cerchietto che potremo ovviamente muovere attraverso il nostro dito sullo schermo e con quest'ultimo dovremo appunto spostare tutti gli oggetti dal tragitto della nostra palla per evitare che venga frantumata in mille pezzi come vi ho detto è parecchio difficile però per tutti gli amanti delle sfide estreme come me assolutamente dovete scaricarlo trovate il link qui sotto in descrizione passiamo ora ad un titolo con cui giocavo molto molto tempo fa ma ho riscoperto solamente da pochi giorni sto parlando di Hell Rider 2 questa volta controlleremo una piccola moto che potremo solamente cambiare di direzione cliccando sullo schermo quindi o a destra o a sinistra la moto si muoverà automaticamente durante tutto il percorso e noi dovremo solo spostarla per evitare tutti gli ostacoli e invece prendere i vari oggetti che possono esserci utili durante il tragitto troveremo anche vari boss che tenteranno di sconfiggerci tirandoci delle bombe e noi dovremo fare altrettanto per sconfiggere loro semplicemente passando sopra il punto in cui è disponibile la bomba potremo solamente cambiare la direzione del nostro veicolo e poi tutta l'abilità sta a noi il terzo gioco di oggi purtroppo è l'unico disponibile solo su android e non su ios mentre tutti gli altri sono multi piattaforma ma una volta giocato non potevo davvero non inserirlo in questa classifica perché veramente è uno dei miei preferiti la cosa forse sottovalutata che però io amo veramente tantissimo sono le canzoni questi brani di musica elettronica che si legano veramente tantissimo con il gameplay e ti fanno quasi venire voglia di non morire ed andare avanti solo per ascoltare poi il drop della canzone il gameplay inoltre è uno dei più frenetici che ho mai visto su un gioco del genere ci sono vari luci oggetti poi la musica e tutto il resto che ti fanno veramente rimanere incollato allo schermo il funzionamento comunque anche qui è molto semplice avremo un triangolino posto al centro dello schermo e noi dovremo solamente spostarlo a destra oppure a sinistra per schivare i vari oggetti e invece prendere magari degli scudi che possono esserci utili e darci qualche vita in più in alto a destra trovate anche una percentuale di completamento perché dopo un po' si il gioco finisce o almeno credo perché io non sono mai arrivato alla fine se qualcuno ci è arrivato o ci arriverà fatemelo sapere qui sotto nei commenti e spoileratemi cosa c'è alla fine di questo gioco perché sono curiosissimo quarto gioco di oggi molto famoso Color Balls è uno degli ultimissimi giochi rilasciato dalla ketchup la casa produttrice che preferisco il nostro scopo sarà quello di effettuare uno slider con una barra bianca che troviamo in basso sullo schermo e riuscire a salvare quante più palline possibili all'inizio sarà piuttosto semplice ma poi vi capiterà di avere magari tre palline a destra altre tre a sinistra e non sapete più cosa fare prima o poi fidatevi il gioco finirà perché vi cadranno tutte le palline comunque il gameplay è davvero fantastico soprattutto quando avete maggiori palline quindi il gioco è molto più frenetico e quindi è un altro gioco gratis che vi consiglio assolutamente di provare a questo punto è il turno di Dodge Infinity anche questo è uno dei miei preferiti innanzitutto possiamo scegliere tra la white e la dark mode cosa fantastica comunque all'inizio del gioco avremo una piccola pallina verde che poi potremo ingrandire aumentando il nostro moltiplicatore e il nostro scopo sarà quello di schivare tutto quello di colore rosso sullo schermo dovremo continuare a raccogliere questi coin verdi sullo schermo ma man mano sarà sempre più difficile perché dovremo cercare di mantenere sempre il moltiplicatore più alto possibile per fare più punti possibili ma poi dall'altra parte più grandi diventiamo e più probabilità abbiamo di scontrarci con qualcosa di rosso e quindi perdere una volta che siamo diventati troppo troppo grandi e non passiamo più da nessuna parte basterà lasciare lo schermo per qualche secondo e torneremo molto molto piccoli e riusciremo a schivare gli ostacoli in modo più facile in questo gioco quindi l'abilità sta nel decidere quando abbassare il moltiplicatore oppure quando rischiare il tutto e per tutto e fare maggior punti possibili essendo una sfera gigante gioco veramente fantastico se iniziate una partita probabilmente ne farete altre 20 o 50 automaticamente o perlomeno così è stato per me perché vi tiene attaccati allo schermo in un modo impressionante sesto gioco di oggi Bricky Break anche questo è abbastanza difficile e io sono solo arrivato al livello 5 per farvi capire il nostro scopo sarà quello di distruggere tutti i rettangoli che circondano la nostra pallina al centro e per farlo potremo solamente girare questo cerchio e fare in modo che la nostra pallina appunto vada a scontrarsi con uno di questi rettangoli qui il difficile sta nel capire dove la pallina si andrà a scontrare e quindi di conseguenza girare la nostra ruota per fare in modo che ci sia sempre un altro blocco a farla rimbalzare più andiamo avanti e più sarà difficile perché poi i blocchi si coloreranno e potremo distruggerli solamente con la pallina dello stesso colore e beh sarà una sfida piuttosto difficile quindi provatelo il settimo gioco si chiama Rush se soffrite di attacchi epilettici non giocate a questo gioco no davvero ci sono degli effetti che fanno girare la testa quindi se questo non è il tipo di gioco per voi non scaricatelo beh in questo caso c'è poco da dire avremo una pallina e due corsie dovremo solo cliccare lo schermo per scambiare la pallina da una corsia ad un'altra durante il tragitto incontreremo molti molti ostacoli e quindi dovremo solo spostarci nella corsia libera per poter andare avanti fidatevi inizialmente riuscirete tranquillamente ma poi non è per niente facile i punti peggiori sono i due ostacoli di fila e il secondo che si nasconde dietro al primo quindi noi non lo vediamo neanche facciamo per spostarci e boom perdiamo automaticamente beh voi sarete sicuramente più bravi di me però è molto difficile abbiamo poi Data Wing un gioco che mi ha davvero stupito sia la grafica che i suoni sono fatti davvero molto bene e ti immergono totalmente nel gameplay dovremo controllare un piccolo triangolo per completare dei percorsi nel minor tempo possibile oppure per trovare delle uscite nel percorso nel minor tempo possibile non sarà però un classico spostamento perché dovremo tenere conto della gravità e inoltre per guadagnare velocità dovremo effettuare una sorta di derapata nei limiti del circuito in modo tale che la forza della fiamma ci spinga il più avanti possibile il bello qui è che su alcuni circuiti proverete e riproverete per battere il vostro record perché vi sembrano facili ma poi sbatterete ovunque oppure la gravità semplicemente non vi porta dove volete voi e dovete ricominciare tutto il circuito penultimo gioco Fire Up è quello più facile di tutta la lista secondo me anche in questo caso sarà sufficiente fare uno slider e sparare le palline contro i blocchi che incontreremo durante il percorso beh non ci vuole nulla direte voi ma in realtà non è così prima o poi ovviamente non saremo più in grado di distruggere i blocchi ma dovremo poi potenziare la nostra navicella così se vogliamo chiamarla qui la difficoltà sta nel capire nel minor tempo possibile quale blocco ha il minor numero e quindi richiede meno spari di palline per distruggerlo infatti i blocchi non sono tutti uguali dobbiamo decidere noi dove passare all'interno del percorso ovviamente poi più andiamo avanti più punti facciamo più abbiamo la possibilità di potenziare il danno e la velocità con cui le palline vengono sparate e lungo il percorso per rendere il tutto ancora più dinamico troveremo vari potenziamenti che possiamo utilizzare per andare avanti in modo ancora più semplice anche questo è parecchio carino può piacere a molti di voi quindi ve lo consiglio assolutamente e per finire l'ultimo gioco di oggi è Rolling Sky oppure come l'hanno tradotto in italiano molto brutto Rotolamento dal cielo però lasciando il nome il gioco è spettacolare dovremmo controllare un grosso pallone durante tutto il percorso e schivare i vari oggetti beh quindi praticamente come i 9 giochi che hai appena mostrato beh quasi è davvero molto molto frenetico la pallina fa tutto da solo quando deve saltare salta quando non deve saltare non salta ma sta a noi decidere dove spostarla e quali blocchi utilizzare per poter andare avanti per esempio se c'è un buco all'interno del percorso noi dobbiamo posizionarci solamente sul quadrato in cui c'è il comando che fa collegare queste due piattaforme in modo da non cadere nel nulla non avete capito nulla ma poi lo capirete mentre giocate ci sono veramente molti livelli ovviamente dal più facile al più difficile ma anche il primo è difficile quindi vi sfido provatelo e fatemi sapere che cosa ne pensate quindi ragazzi questi erano alcuni tra i migliori giochi arcade che vi consiglio di scaricare in questo momento su tutti i vostri smartphone ovviamente di questo tipo ne esistono veramente tantissimi quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il vostro preferito della lista e anche magari un altro gioco che non ho nominato in questa classifica come sempre io spero che il video vi sia piaciuto in quel caso vi invito a lasciare un bel mi piace e ad iscrivervi anche al mio canale mi raccomando passate su tutti i miei social soprattutto instagram trovate tutti i link qui sotto in descrizione e la cosa più importante di tutte vi chiedo gentilmente di condividere questo video dovunque con tutti i vostri amici per far provare anche a loro questi fantastici giochi ma soprattutto per aiutarmi a farmi crescere e detto questo da Fede Tutorial è tutto noi ci becchiamo come sempre in un prossimo video